Cari amiche e cari amici bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, oggi una puntata dedicata alla famiglia ma anche alle tante fasi della vita, dall'infanzia alla maturità con un unico filo conduttore, quello della passione per il cinema. Tra poco in studio con noi Luca Argentero e Galatea Ranzi raccontano Copperman, la storia di un bambino diverso dagli altri che sogna e alla fine si convince di essere un supereroe, se puoi sognarlo puoi farlo ha detto qualcuno, un progetto per il quale Luca Argentero davvero si è messo in gioco e ce lo racconta qui in studio tra pochissimo. E poi quando si dice una vita per il cinema tra poco in studio con noi ci sarà anche Paola Quagliero, la storica assistente di Franco Cristaldi ma anche di Giuseppe Tornatore, una delle protagoniste del documentario Segretarie una vita per il cinema. Un cinema davvero immenso, quello che racconteremo stasera raccontato attraverso sei donne che a questo cinema hanno dedicato la loro vita. L'intramontabile Clint Eastwood torna in sala da attore e da regista con il corriere De Mule, una storia vera, un uomo che ha perso tutto e che si trova a suo malgrado a diventare corriere della droga. Ma subito andiamo a incontrare il protagonista della nostra intervista confidenziale che è un bambino speciale, un bambino senza tempo. Remi, ieri un cartone, oggi un film adatto davvero a tutta la famiglia, insomma la storia la conosciamo, tratta dal libro Senza Famiglia. Remi è un trovatello abbandonato anche dai genitori adottivi, riuscirà a capire chi è anche grazie all'amicizia con un artista di strada che in questo film è interpretato da Daniello Tei. E allora scopriamoli questi personaggi intramontabili. Il cagnolino, la scimmietta, Jolie Kerr, ma soprattutto c'è lui, com'era Dolce Remi. Ecco quello lì, ci dice tutto, Giulian Gelucci. Arrivato in Italia nel 1979, il cartone Remi e le sue avventure nasce in Giappone tra il 77 e il 78. Varie le versioni televisive come anche le sigle, ma quello che è rimasto nel cuore di tutti è un personaggio di una dolcezza infinita. Dolce Remi, così lo ricordiamo è di interpretarlo per la prima volta sul grande schermo quel visino d'angelo di Malen Paquen. Io non conoscevo affatto Remi e quando mi hanno proposto di interpretare questo personaggio, quando mi hanno detto sei stato scelto per questo ruolo, ho scoperto che mi ritrovavo a pieno. Remi è un personaggio dalla grande empatia, si carica sulle spalle molte cose, ho trovato che avesse delle grandi qualità. È raro trovare un cuore buono e una bella voce nella stessa persona. Remi poi è differente dai bambini di oggi, ha tante cose dentro. C'è una frase nel film che dice Daniel Hotel e trovo sia molto vera. Questo bambino ha vissuto molte più cose di un adulto. Adesso ti chiedo di osservare, di ascoltare e di fare tutto quello che ti dirò nel momento in cui te lo dirò. Trasposizione del romanzo Senza famiglia di Hector Malot è anche questa nuova versione di Antoine Blossier che vede costumi accurati, paesaggi straordinari, un cast eccellente tra cui spicca il personaggio di Daniel Hotel e nei panni del Santimbanco, il signor Vitalis ma soprattutto un maestro di vita. Daniel all'inizio era molto timido, mi avevano parlato della grandezza di questo attore e avere la possibilità di lavorare con un attore di quel calibro. Era emozionato e timido, mi ha dato parecchi consigli sul set, mi ha consentito di migliorare. Canta. Il maestro, dopo aver notato la sua voce d'angelo, gli insegnerà a credere in se stesso e a tenere sempre presente la sua storia, la sua identità e i suoi sogni. Anche se la vicenda di Remi è nota per tante generazioni, commuove ancora la storia di questo piccolo orfone e del suo viaggio alla scoperta della sua vera famiglia. Non sembrate comprendere la grandezza del bambino. Voi gli proponetene più e nemmeno che scalare i gradini della servitù presso la vostra famiglia. La vita che vive con me è dura, però forgia il suo carattere. In fondo è la storia di un bimbo perduto che va ad affrontare numerosi ostacoli, ma grazie all'ottimismo, alla speranza, con i suoi occhi puri da bambino, si batte contro tutti, riuscendo a mantenere costantemente la speranza e a sopravvivere per diventare qualcuno. Avvicinatevi bambini, state per scoprire lo spettacolo più straordinario di tutta la Francia! Che cosa? Non crede ciò che dico? Buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte. Bentornati al nostro viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti. In questa puntata dedicata alle tante fasi della vita racconteremo una storia davvero emozionante, una fiaba con cui tanti di voi e di noi si possono identificare. E quindi bentornato a Effetto Notte a Luca Argentero, che ormai è un amico di questo programma. Benvenuta a Effetto Notte a Galatea Ranzi. Grazie. Voi siete mamma e figlio, è un po' incredibile, ma lo siete. È la magia del cinema. È la magia del cinema, è questa storia che raccontiamo oggi, è davvero emozionante ed è una storia in cui credo tante delle amiche e degli amici che ci seguono si possono identificare non solo chi ha figli, però cominciare con questa domanda. Dunque raccontiamo Copperman. Ti chiederei questo Luca, quando diciamo a un bambino, penso che è una cosa che purtroppo succede spesso, sei uno stupido, che cosa inneschiamo? Nella realtà di tutti i giorni è una cosa che mi auguro di non vedere. Nella realtà del nostro film Anselmo è talmente positivo, talmente propositivo che vede anche queste ingerenze della realtà come un qualcosa che in qualche modo non intaccano il suo equilibrio. È la cosa bella di questo film. Anselmo sembra avere un qualcosa in meno, in realtà ha qualcosa in più. Come la vedi, Galatea? Anche come mamma te lo chiedo, insomma, quando si dice a un bambino no, sei uno scemo, no? È una cosa che a scuola purtroppo. Ci si deve aspettare che ce lo ridica di lì a poco, se non di peggio, sicuramente. Perché quello che succede in questo film, allora stiamo per scoprire le immagini, ma insomma alla fine il protagonista sembrerebbe avere qualcosa in meno degli altri, poi forza qualcosa in più. Ma è un supereroe o no, Luca? Supereroe oggi è chi decide di aiutare un'altra persona senza pretendere nulla. In cambio è un atteggiamento già di per sé supereroico. Nel caso di Anselmo trasformare quello che gli altri continuano a ripetergli che è un qualcosa in meno, lui lo trasforma e modifica la realtà attorno a lui. Oggi essere supereroe non vuol dire salvare il mondo, non vuol dire cambiare il pianeta, vuol dire migliorare il tuo intorno, quello in cui vivi tutti i giorni. E quello basta un gesto di gentilezza, basta un grazie e un per favore, basta un sorriso per migliorarlo. E in questo Anselmo è speciale. Vero che il karate annuisce, no? Beh, mi piace molto quello che dice Luca, in genere, anche questa cosa di adesso, approvo moltissimo e sì, in effetti è vero, per essere eroici basta andare un po' controcorrente rispetto alla corrente di tante cose sbagliate e dannose che ci circondano. Allora, abbiamo cominciato a conoscerlo meglio, ti vorrei chiedere però una cosa, Luca, sentivamo questa frase, se puoi sognarlo puoi farlo, insomma è una frase che anche gli amici che ci seguono conoscono bene, l'ha detta Walt Disney, uno che di queste cose se ne intende. Ti è mai capitato una cosa del genere? Perché ti vediamo bello, ammiratissimo, lo sappiamo, insomma lo vediamo, sei uno degli attori proprio più amati anche dal pubblico, da casa. Ti è mai capitato una cosa del genere? Di essere un po' preso in giro, da piccolo, messo, diciamo, come si dice, un po' all'angolo, in difficoltà? Grazie, e grazie per la scheda che hai fatto al film, è veramente precisa e interessante. Non ho subito angherie da piccolo, non ero il role model della scuola, anzi ero un po' per i fatti miei, mi piaceva tanto lo sport, mi piaceva tanto la natura, quindi non ero il bulletto della classe, ma non ho neanche subito, devo essere sincero. Magari però le vedevi, no? Perché c'erano, insomma, a scuola. Sai che ho un po' l'impressione che questo sia un atteggiamento che è andato peggiorando nel corso del tempo, la mia generazione è ancora una generazione abbastanza lontana dal mondo dei social network, in cui l'apparenza era ancora più importante, eravamo un po' meno soggetti alle mode, oggi basta una scarpa da ginnastica diversa dall'altro per essere oggetto di presa in giro, sia un po' tutto accentuato, come la vita che viviamo, è tutta un po' più frenetica, più veloce, più rapida e forse anche un po' più cattiva. Come lo vedi, Galatea? Questo te lo chiedo un po' anche come mamma, perché insomma poi può capitare di avere un figlio che ha questo tipo di difficoltà o comunque di avere un compagno di classe, no? Non è una cosa semplice da gestire. Come la vedi tu? Sì, sono d'accordo che è un fenomeno in crescita negli ultimi tempi, sicuramente anche a causa dei social network, purtroppo, perché diventano veramente dei luoghi dove si può dare addosso a qualcuno, dove chi è leggermente diverso diventa bersaglio di presa in giro ed è proprio qualcosa di molto molto spiacevole, ingiusto e che deforma veramente la società. E va bene, questi sono i social network, però poi ci sono le famiglie, no? I bambini da mamme che cosa gli dicono? Non lo chiedo a Luca, però a te te lo chiedo. Come si fa? Perché poi i bambini a scuola si possono trovare in mezzo a dinamica, le vediamo anche in questo film, no? Questo ragazzino subisce delle cose tremende all'inizio a un certo punto, lo imprigionano in mezzo a due sbarri, lo prendono. Ecco, dico, quindi cosa si dice? Come si fa a far sì che questi bambini vadano un po' in una direzione più corretta quando c'è questo tipo di situazione, no? Beh, ci si parla, ecco. Io credo che parlare con i figli sia una cosa molto difficile ma assolutamente imprescindibile. Il ruolo degli insegnanti è anche molto molto importante, chiaramente. Ecco, sensibilizzare i bambini ad essere aperti agli altri, ad essere disponibili verso chi ha più difficoltà è una cosa molto molto importante da fare prestissimo, non la recuperi dopo, sia con l'esempio che parlando. E a proposito di famiglie, Luca, tu per prepararti per questo ruolo hai lavorato con un'associazione, l'AITA, no? Spieghiamo un attimo di che cosa si tratta e anche che cosa hai visto, no? A contatto con i bambini, con le famiglie. È una bellissima associazione romana, gestita dal professor Mazzone, che poi è primario al Bambin Gesù. Rispetto a queste tematiche, insomma, a disturbi dello spettro cognitivo, abbiamo frequentato una sorta di doposcuola. Sono delle ore che vengono organizzate al pomeriggio per continuare a dare sostegno, soprattutto ai genitori che magari sono impegnati al lavoro e quindi hanno bisogno di qualche ora in più. E che cosa hai capito? Che cosa hai scoperto? Non so se ho scoperto, sicuramente ne sono uscito arricchito, ma con delle conferme, non tanto con delle scoperte. Quello che ho trovato sono dei ragazzi a loro modo estremamente felici, perché messi nella condizione di esserlo. Perché se attorno hai delle persone che esaltano la tua unicità, ti fanno vivere la tua diversità come un'unicità, riesci a diventare catalizzatore di buon umore. Ho passato dei pomeriggi assieme a Eros Puglielli, il regista, abbiamo fatto questo percorso assieme. Sono sempre stati pomeriggi felici. E questo bambino di questo film è un bambino comunque felice, poi trova il suo modo, come racconta questa storia. Allora, un po' il plot di Copperman è una cosa che è stata raccontata in un altro modo, però che torna in qualche modo nel cinema. Allora, riscopriamo questi amichetti di Copperman e vediamo, c'è un filo conduttore, eccolo qua. Allora, questo però è un modo anche per dire, perché il fatto che se ne ritorni a parlare vuol dire che forse non siamo andati avanti molto, no? Cioè, è un po' quello che dicevamo anche prima. Comunque, quando ci si confronta con qualcosa che non è la normalità, l'ordinario, un po' di difficoltà rimane. Che ne pensate? Sì, è vero, è così, però trovo che siano continue sottolineature di come la felicità vada cercata dove ti pare a te. Per Forrest è una barca per pescare gamberi, per Rain Man, per Dustin Hoffman è scoprire che il vento in faccia è una sensazione bella. Per Anselmo è guardare una centrifuga che gira, perché lì in mezzo i colori si mischiano e il bianco è una magia. Quindi si è sempre un po' più troppo concentrati a un qui e ora sbagliato, mentre magari alzando lo sguardo ti rendi conto che un fiore ti può emozionare, che una luce ti può emozionare. Quindi oggi che cosa significa sentirsi un eroe? Un po' come succede nel film a lui, ma come succede anche al tuo personaggio, perché è una mamma alla fine sola, abbandonata, che si deve restreggiare con questo figlio, con chi la taglieggia. Che cosa significa essere un eroe del quotidiano, ognuno nel suo piccolo, ognuno in quello che fa? In quegli anni in cui si ambienta la storia all'inizio, chiaramente questi problemi erano un po' meno identificati e adesso trovo che invece se ne parli molto di più e stanno studiando, la ricerca sta andando avanti sicuramente. E quindi lei inventa dei modi per far sì che suo figlio apprenda, riconosca diversamente da come si fa di solito, quindi ha una grandissima immaginazione e per questo è eroica. Una mamma coraggiosa ed eroica, penso che ce ne sono tante a casa, non è mai facile per nessuna. Senti, la risposta di Copperman alla fine qual è? Perché l'abbiamo capito un po' dal servizio, ma insomma, perché il film di risposte ne è da tante e non le vogliamo svelare, lasciamo la sorpresa anche a chi lo andrà a vedere, il film. Ma insomma, nella fuga, nella famiglia, nella follia, nell'amore, forse in questa ricerca della felicità di cui ci parlavi prima tu, Luca, in cosa? Secondo me è l'inno del film, il messaggio, poi non si fa mai un film per lanciare un messaggio. Però qualcosa magari si vuole dire. In realtà le motivazioni sono personali, però è che questa famosa armatura che siamo sempre più abituati a indossare per proteggerci dall'esterno ci rende completamente impermeabili alle emozioni, qualsiasi essere, indipendentemente da dove arrivano. Allora vale la pena, soprattutto adesso, di togliersi la maschera, posare l'armatura da un lato e fare in modo che l'altro ti entri in contatto con te. È l'unico modo, siamo esseri umani, evitare il contatto, che è quello che ci spingono a fare sempre di più, non è la soluzione, non è la via, non è la paura dell'altro. Però la soluzione è andare verso l'altro. Assolutamente, guarda quanto è vero e quanto ne abbiamo bisogno. Allora Luca, io adesso però mi voglio ritagliare un momento con Galatea Ranzi, perché la tua mamma nel film, vabbè lo sai già, e lo sa anche il pubblico che ci segue da casa, ma lo vogliamo ricordare, oltre a essere una formidabile attrice di teatro, frequenta spesso anche il cinema. Non spessissimo, ma ti abbiamo visto in tantissimi film, la Caterina va in città, a tre metri sopra il cielo, da Fiorile, va dove ti porta il cuore, alla grande bellezza, e quindi Galatea noi ti vogliamo riscoprire in questi ruoli. Eccola qua, Galatea Ranzi. Non è mai provato una sola cosa della mia vita, io sono sempre stata un'estranea per te e per papà. Lascia stare tuo padre. Mio padre? Cosa avrà di tanto speciale? L'hai sempre dovuto difendere, tuo padre ti vuole bene, tuo padre ti ha sempre protetto. E dov'è adesso quest'amore, questa protezione, dov'è? Ma di che menzogne stai parlando? Tutto quello che ho detto è vero, è come sono, è quello in cui credo. Ti prego, mi vanto di essere un gentiluomo, non mi fa crollare l'unica certezza che ho. No, 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 adesso tu per favore mi dici quali sarebbero le mie menzogne e le mie fragilità, bello mio. Io sono una donna con le palle, parla, avanti, su, parla. Su donna con le palle crollerebbe qualsiasi gentiluomo. Stefano, l'hai voluto tu. E poi gliene dice quattro che non le abbiamo fatte sentire ma che sicuramente il pubblico ricorda. Allora Galatea, per te il cinema oggi che cos'è? Per me, per me in persona, personalmente, è voglia di farlo, assolutamente. Dicevi bene prima che lavoro spessissimo in teatro, adesso sono in teatro con due spettacoli contemporaneamente, quindi una specie di salto mortale. Sei al vascello a Roma, no? Sì, al vascello con uno spettacolo per bambini, il Barone Lamberto tratto da Rodari, con un'orchestra di bravissimi ragazzi dal vivo con musiche originali in questi giorni. E poi invece con un altro spettacolo, le ultime lune con Andrea Giordana. E dicevo, dicevo che però il cinema, ecco, mi piace moltissimo. L'ho fatto parallelamente alle tante cose teatrali che ho fatto durante trent'anni di lavoro. E' un altro mestiere, spesso dico che per un attore è quasi un altro mestiere, perché è proprio tecnicamente molto differente. Però trovo che l'integrazione delle due forme sia assolutamente arricchente per un attore, non dal punto di vista economico. Certo, dal punto di vista professionale del vostro percorso. Vedo che Luca a noi si è insomma che mamma che hai avuto in questo film. E Luca tu continui il tuo percorso altrettanto personale dalla commedia a questo tipo di cinema, un percorso fatto di coraggio, tenacia, dedizione, passione. Sei un po' come Copperman alla fine, pure tu sei un po' supereroe o no? Sì, boh, non lo so, supereroe. Ripeto, i supereroi sono davvero quelli che operano a cuore aperto. Io, infatti noi facciamo i salti in banchi, quindi... È bella l'idea di... Io ho l'impressione che Copperman possa far uscire dal cinema le persone un po' meglio di come sono entrate. In questo c'è una missione supereroica in questo lavoro. Far star bene le persone per qualche mezz'ora della loro giornata di per sé è un ruolo importante. Allora grazie a Luca Argentero e a Galate Aranzi in bocca al lupo per Copperman. Voi restate là perché adesso andiamo a conoscere una storia pazzesca, anzi sei storie. Sei storie di donne del passato ma neanche tanto. Qualcuno le potrebbe definire segretarie ma la definizione è veramente riduttiva perché queste sei donne hanno accompagnato grandissimi produttori del cinema, da Goffredo Lombardo a Franco Cristaldi, dalla Fox a Fellini, conoscendone tutti i segreti, vivendo con loro ogni giorno. Sono segretarie che davvero hanno dedicato una vita al cinema e tra poco una di loro ci raggiungerà in studio. Eccole qua intanto. Mio padre che è un appassionato di cinema mi ha detto subito lascia perdere perché questo è un brutto ambiente e non sai che cosa ci si può trovare. Non mi sono sentita mai di essere la tattilografa del momento. Una buona mano gliela davo perché tante rogne gliele toglievo di torno. Erano i tempi nei quali all'irraglio come impiegato c'era Barcello Mastroianni, fra l'altro. La prima cosa che mi disse, dice, nel cinema la parola impossibile non esiste. Mi dice, nel cinema la fine, finì continuo e Ponte non me la perdonava mai. Ogni volta che mi vedeva mi diceva, tra l'editrice. Non solo segretarie ma molto molto di più. Benvenuta a Effetto Notte, a Paola Quagliero, che è una delle protagoniste di questo bellissimo documentario diretto da Raffaele Rago e Daniela Masciale. Tra l'altro davvero lo consigliamo perché per chi ama il cinema è pazzesco. Racconta delle storie fortissime sotto tutti i punti di vista e lei ha lavorato per tantissimi anni con Franco Cristaldi sul produttore di film. Insomma, vale la pena ricordarli come Vaghe e Stelle dell'Orsa, Nuovo Cinema Paradiso e poi i soliti ignoti, Sedotte Abbandonata. Insomma, ha lavorato a lungo contornatore. Però io, signora Quagliero, intanto la ringrazio di aver accettato il nostro invito. Prego, prego. Però voglio subito partire da una cosa. Se la regia ce la mandi in onda, abbiamo una bellissima foto di una splendida ragazza. Ma una ragazza così, negli anni 50, non voleva fare l'attrice? No. Assolutamente no. E come mai? Come mai? Perché io non ero attratta dal cinema per diventare una diva. Mi piaceva il cinema, lo volevo fare, ma quello che ho fatto di cinema, lo so, ero molto corteggiata, ero molto corteggiata, però non... Se tornassi indietro devi fare la stessa cosa. Eh sì, perché ha avuto tantissime soddisfazioni e ce le racconterà in questa puntata. Però una piccola bugia me l'ha detta, perché poi un po' di cinema l'ha fatto. Qui noi abbiamo delle immagini, vediamo se la regia ce le manda. Sì, va bene, ma insomma è un cinema così, avevo iniziato. Ecco. Sì, 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 vabbè, avevo iniziato, avevo iniziato. Con Alberto Sordi qui, che cosa? Il film è un eroe dei nostri tempi, no? Sì, è un eroe dei nostri tempi, è stata una bella esperienza, simpatica, però non mi ha attirato più di quanto doveva attirare. Io volevo fare il cinema da dietro la scrivania. E l'ha fatto, e l'ha fatto proprio alla grande. Senta, una curiosità, Sordi com'era? Sordi, simpaticissimo, era uno pure che corteggiava, delicatamente, ma corteggiava, corteggiava. Simpaticissimo, perché era un uomo straordinario, però devo dire che un occhio anche su di me l'aveva buttato. Eh, lo credo bene. Allora, a proposito di corteggiatori, perché lo diciamo, insomma, le segretarie delle persone importanti, le assistenti di cose ne sanno, ne vedono, e poi in questo ufficio arrivano tante persone, no? Eccolo qua, qui c'è un bellissimo Giuliano Gemma. Eh, Giuliano Gemma. Signora Guagliero, ma qui che cosa succedeva con Giuliano? Che succedeva? Che poi io, fortunatamente, fortunatamente, a settembre mi sarei sposata. Quindi era l'anno in cui lui stava preparando il film con noi, poi era un attore della Vides, perché Cristaldi aveva gli attori sotto contratto, aveva un gruppo di attori sotto contratto, ma lui stava sempre lì da me. Un giorno Cristaldi mi disse, senti Paola, mi devi dire assolutamente che cosa ci fa davanti a te, dalla mattina alla sera Giuliano Gemma. Ah, non lo so, non ne ho la più pallida idea, per me è un amico, io poi mi sto per sposare, si può immaginare se penso a Giuliano Gemma, però devo dire che aveva il suo fascino. Eh, lo credo bene. Lei ha avuto anche il privilegio di conoscere benissimo Claudia Cardinale, insomma. Claudia Cardinale, una donna, una ragazza straordinaria, una ragazza straordinaria, simpaticissima, alla mano, ho avuto modo di praticarla anche con i fratelli, cioè facevo parte un po' della sua famiglia, perché i genitori mi adoravano, lei era una grande amica, una grande amica, era una che sapeva che io passavo 24 ore al giorno con il suo, con suo marito, e allora per aiutarmi, quando la sera gli faceva l'ultima telefonata, gli faceva, gli chiedeva Franco a che ora vieni, lui diceva cinque minuti e sono, dopo attaccava il telefono, mi richiamava Paola preparati che sta per uscire, ha detto che viene, e questo era il motto tra me e lei, era il motto tra me e lei, insomma cercava di aiutarmi, perché sapeva perfettamente che cosa era, ma io 24 ore, è esagerato dirlo, ma giù di lì ero con lui 24 ore al giorno. Per lei il lavoro è stato una cosa seria, e anche per le sue colleghe che poi si raccontano in questo documentario, ne riparleremo tra pochissimo, e con Zeo di Araglia come si è trovata? Perché poi gli amori finiscono, insomma con Cristaldi, sì, sì, no, no, indubbiamente lei pure mi ha voluto a tutti i costi, perché sapeva che donna ero, e quindi è il momento in cui è subentrata lei nella società, io mi sono schierata anche dalla sua parte, gli ho dato una mano, come l'ho data a Massimo la mano, per me io ero in mezzo, da una parte c'era lei e dall'altra c'era Massimo, sono stata per altri otto anni con loro, poi dopo ho detto basta, perché era meglio evitare io in mezzo e loro ai lati. Vabbè, poi ha lavorato con tornatori, insomma, però di persone ne ha incontrate tante, proviamo a fare dei flash perché sono dei volti che comunque il pubblico da casa continua ad amare tantissimo. Rosanna Schiaffino com'era? Rosanna Schiaffino era una birbante, era molto peposa, però era carina nei miei riguardi, cioè forse aveva un briciolino di, come posso dire, di gelosia, però non ne aveva... Meno male che me la racconta così, perché vuol dire che ci sta raccontando la verità, perché quando sono tutti belli, bravi, insomma è onesta nel suo racconto. Lei era bellissima, la Schiaffino era di una bellezza incredibile, era peposa e forse un cincin di gelosia nei miei riguardi le aveva sbagliata, perché non ne avevo il motivo, cioè non c'era motivo per essere gelosa, però era bella. Monica Vitti l'ha conosciuta? Monica Vitti l'ho conosciuta, specialmente quando facevano le riunioni di sceneggiatura a Villa Sili, che era l'abitazione di Cristaldi, era straordinaria, con quei suoi occhiali, con quei capelli straordinari, che aveva dei capelli stupendi, ed era... Io la rispettavo moltissimo, signora Vitti, signora Vitti perché per me era un'icona, un'icona, poi dove... Cioè c'era da dargli rispetto, nel modo più assoluto. era molto amica di Cristaldi, era veramente la sorella di Franco Cristaldi. Poi voi avete lavorato anche con grandissimi registi del cinema, naturalmente uno è Lucchino Visconti, allora mi risulta, non so se ho letto bene, che Visconti, ecco lo stiamo vedendo, le ha dato un consiglio, le ha fatto un'osservazione. Sì, ma Visconti un giorno stavamo in ufficio, lui stava in ufficio che preparava il film, credo che fosse Notti Bianche, e a un certo punto io a quell'epoca portavo lo smalto, allora andava lo smalto argentato e lo smalto rosa perlato. A un certo punto mi vede le mani, me le guarda e mi fa Paola, ma che porti lo smalto argentato? E dico sì, è di moda, perché non lo posso portare? Toglitelo immediatamente! Una ragazza come te non deve permettersi di portare quello smalto. Io rimasi un attimo allibita, perché cioè un rimprovero del... ma era un bel rimprovero, però non è che fosse un rimprovero... E se lo dice Luchino Visconti! Bisogna farlo! E poi lei ha avuto una grandissima amicizia anche con un'altra coppia storica del nostro cinema, Duccio Tessari e Lorella De Luca. Sì, è stato veramente un grandissimo amico per me, Duccio, Lorella e le figlie. Devo dire che era una famiglia acquisita, un'altra famiglia acquisita. Ecco, perché questo non ci pensiamo mai, ma anche il cinema, no? Può essere una famiglia. Certo. Chiaramente a volte temporanea... Perlomeno il cinema dei miei tempi era una famiglia. Il cinema dei miei tempi era una famiglia. È un lavoro e un impegno serio. Tra l'altro questo un po' ce l'ha raccontato, ma ora lo raccontiamo meglio, perché per questo lavoro lei e le sue colleghe avete fatto dei grandissimi sacrifici. E che cosa significava in quegli anni lavorare e lavorare sul serio? Vediamo ancora un momento di questo documentario. Ho fatto ragionerie e mi ricordo che quando ho fatto gli esami e sono andati molto bene, ero orgogliosa perché ho detto a 18 anni adesso mi rimbucco le maniche e mi metto a cercare un lavoro e voglio essere indipendente. Avere in vano la disponibilità del denaro poco o tanto che era. Quindi vuol dire indipendenza, perché questa è la grande cosa, perché ovviamente ci sono sempre state le ragazze che si sono vendute per la borsetta e per il braccialetto, ma un conto poter dire me lo compro da me e vado a letto con chi mi pare è una bella differenza, una bella conquista, ragazzi, o no? La prima volta che sono entrata in sala consiglio e io ero l'unica donna. Ecco, quella è un'immagine che mi è rimasta, che, oddio, che ci faccio con tutti questi qui? Insomma, sacrifici ma anche soddisfazione, avete lavorato veramente sul serio. mi verrebbe da chiedere una cosa, ma se una donna decideva di fare un figlio con le responsabilità che c'erano, che cosa succedeva? Vi dicevano di no? Beh, questa è una domanda che credo ricorderò per tutta la vita, perché in quel periodo io ero affiancata da un'altra ragazza e ci alternavamo nel lavoro. Lei mi disse, Paola, lo sai che io sto aspettando un bambino, glielo devo dire al dottore? Eh, diglielo. A distanza di qualche giorno successe che anch'io mi accorsi che aspettavo un bambino. Dico, oddio, adesso come glielo dico? presi coraggio, a distanza di qualche giorno glielo dissi, dico, dottore, guardi che io aspetto un figlio. Lui saltò sulla sedia e fece, oddio, pure tu non è possibile che io mi trovi in mezzo a due che aspettano i figli. Dico, dottore, ma io sono dieci anni che lo aspetto e lei capisce bene che io non ci rinuncio nel modo ovvio assoluto faccia quello che crede. Ah, va bene, va bene, va bene, vedremo come faremo. E come faremo che io ho fatto il figlio però non sono stata capace nemmeno di allattare mio figlio perché io appena nato ero già in ufficio. C'erano tantissimi sacrifici? Eh beh, sì, ce ne erano. C'erano anche delle soddisfazioni perché per esempio andare al Festival di Venezia che può sembrare una cosa... Il Festival di Venezia è stato per me, oddio, non ero una diva ma mi sono sentita una diva in quel periodo non ero mai stata al casino a Cristaldi mi portò al casino non ero mai stato su uno yacht e mi trovai sullo yacht di Rizzoli beh, delle cose che... Poi c'era un'eleganza, immagino Un'eleganza, elegante Quindi c'era anche il problema dei vestiti da portare Eleganza Bello tutto, tutto molto bello però certo, non sei una diva e queste cose ti arrivano così all'improvviso poi dopo le dimentichi perché naturalmente non essendo una diva non è che stai sempre a Venezia E poi quando arriva un Oscar perché appunto lei ha lavorato con Cristaldi con Tornatore Nuovo Cinema Paradiso quando arriva un Oscar dall'ufficio qui da Roma dall'ufficio noi abbiamo passato si può dire tutta la notte in ufficio perché mi pare che l'ora era non tornare 5 quando si ebbe la notizia poi arrivò la telefonata di Cristaldi che disse ragazzi andatevene a casa oggi chiudete l'ufficio non vi preoccupate chi ci vuole ci troverà il giorno dopo e fu così abbiamo fatto una vacanza straordinaria avete capito che emozioni pazzesche allora a proposito di Oscar adesso parliamo di un grande protagonista del cinema di sempre Clint Eastwood che purtroppo non è in corsa per l'Oscar ma questa è veramente un'ingiustizia perché il suo nuovo film è pazzesco si intitola Il Corriere Demiulle ed è un film in cui c'è tutto lui c'è tutto Clint eccolo qua beh è vergognoso perché già lui come attore da dove ha cominciato a come è arrivato oggi non gli si poteva dire non gli si deve dire di no poi credo che sia un film stupendo lo è davvero cioè per quello che tratta deve essere un film straordinario che andrò a vedere lei l'ha conosciuto Eastwood comunque le piaceva insomma sì mi piaceva perché agli inizi ha fatto la maggior parte dei film italiani la maggior parte dei film italiani è uscito così lui però insomma un attore del genere non si dice di no assolutamente per lei il cinema oggi che cos'è signora Quagliaro? beh oddio io ricordo molto il mio quello di oggi lo vedo un po' sì ogni tanto esce fuori qualche film è buono ci sono degli attori straordinari anche oggi però se penso a quelli di ieri e mi metto a fare i paragoni è meglio non farli però ben venga anche il cinema di oggi perché l'Italia senza il cinema non può stare è certo è viva assolutamente ma la passione lei ce l'ha sempre viva perché la sento anche il fatto che io mi trovi adesso qui e parlo di cinema evidentemente ancora nutro molta passione per il cinema però c'è stato un momento in cui ho detto basta ciò non toglie che non ce l'ho nel cuore perché ce l'ho sempre nel cuore chi le piace di oggi degli attori di oggi chi le piace? beh io adesso ho incontrato Argentero che è straordinario come attore ma anche come uomo devo dire che non è male va bene ma grazie della sua simpatia e anche proprio della generosità con cui si è voluta raccontare grazie alla signora Quagliaro deve tornare perché qui dobbiamo fare una puntata speciale perché mi sa che di cose da raccontarne ne ha tantissime io la ringrazio e faccio un grande in bocca al lupo a questo documentario documentario che è straordinario è pazzesco allora segretarie Una vita per il cinema la regia di Raffaele Rago e Daniela Mascialla andatela a cercare è uscito un po' a Macchia di Lopardo arriverà probabilmente appunto arriverà in tanti cinema nelle prossime settimane andatela a cercare perché ne vale veramente la pena grazie alla signora Quagliaro grazie a tutti voi per essere stati con noi la prossima settimana effetto notte avrà una puntata speciale sfideremo il freddo andremo al festival di Berlino e tiferemo per l'Italia che è in concorso con l'apparenza dei bambini quindi vi aspetto il veterinario, la domenica e il mercoledì sempre in seconda serata e sempre su TV2000 alla prossima settimana arrivederci